Buongiorno a tutti. Dopo aver visto i rischi collegati alla movimentazione manuale ai carichi e aver analizzato le modalità di valutazione del rischio in base alla ISO 11228 parte prima, adesso ci addentriamo su un tema un po' particolare introdotto nella norma dalla ISO TR 12295, ma che era già previsto nell'application manual revised edition del 1993 del metodo NIOSH elaborato da Tom Waters. Al punto A6 del Technical Report infatti si parla di movimentazione multitask o multicompito. Come avrete visto nel precedente video, il metodo NIOSH permette di definire il livello di rischio, o meglio, l'accettabilità o meno di un compito singolo tenendo conto dell'ergonomia. Tuttavia non è assolutamente comune che una persona effettui un solo compito di sollevamento nell'arco della giornata, almeno sempre lo stesso. Pertanto Tom Waters all'interno del suo manuale ha introdotto una formula di calcolo dell'indice di rischio relativo a più compiti. Nel nostro caso quella che vedete qui è la formula del composite lift index, così come introdotto proprio da Tom Waters. Composite lift index non è altro che l'indice di sollevamento composito relativo a X compiti svolti nell'arco della giornata in maniera frammista, ovvero svolti non per fasce di orario ma una serie di compiti che vengono svolti alternativamente nel corso della giornata. La formula, come vedete, quella iniziale è piuttosto semplice. Sostanzialmente si parte dall'indice di rischio relativo al compito più gravoso al quale si vanno a sommare un'altra componente che è relativa ai compiti successivi. Questo significa che il composite lift index non potrà essere mai inferiore al peggior lift index che ho calcolato come singolo compito lavorativo, pur tenendo conto delle durate dei singoli compiti. Questo significa che se abbiamo dei compiti in zona rossa, tipo un e mezzo o due, sicuramente il composite lift index non sarà inferiore. Quindi il composite lift index al peggio potrà essere superiore e quindi dovrò in qualche modo agire. Se quindi il livello di rischio è già in una zona di non accettabilità o comunque dove devo effettuare degli interventi, il calcolo del composite lift index potrebbe essere piuttosto superfluo. Se invece siete in una zona di accettabilità o borderline, effettivamente c'è il rischio che sommando le ulteriori componenti il rischio possa cambiare di fascia. Per quanto riguarda la seconda componente, quindi questa sommatoria dei delta Li è pari a quest'altra formula. Allora, qui abbiamo la sigla FILI. FILI sta per Frequency Independent Lift Index. Significa che questo lift index è calcolato impostando un moltiplicatore della frequenza uguale a 1, ovvero eliminando il demoltiplicatore derivante dalla frequenza e durata del compito. Come se io in qualche modo volessi depurarlo e tenere solo il fattore ergonomico. Questo valore va calcolato per questo parametro che è dato da 1 fratto FM1,2 meno 1 fratto FM1. FM sta per Frequency Multiplier, cioè il moltiplicatore di frequenza. Nel caso di FM1 si tratta del moltiplicatore di frequenza del compito 1, quello che era fuori dalla sommatoria. FM1,2 invece è il moltiplicatore di frequenza dato dalla somma dei compiti 1 e 2. Cioè in sostanza io vado a calcolare il moltiplicatore di frequenza facendo finta di avere un compito che ha come frequenza, come durata e quella fissata, ma come frequenza la somma della frequenza del compito 1 e 2. Questo significa che questo elemento rappresenta sostanzialmente la variazione di frequenza, del moltiplicatore di frequenza, in base al cambiamento tra il compito precedente e quello unito da 1 e 2. Tutto questo quindi moltiplicato per il Frequency Independent Lift Index. Sempre sotto il fattore successivo vedete che abbiamo 1 fratto FM1,2 che è il fattore di frequenza calcolato in precedenza dato dalla somma del compito 1 e 2 che viene in qualche modo tolto da 1 fratto FM1,2,3. Vi faccio notare una cosa. Frequency Multiplier in generale tende a diminuire aumentando la frequenza. Questo vuol dire che in generale questo è inferiore, sarà inferiore a questo, quindi questo sarà maggiore di questo. Vuol dire che qui avrò comunque un fattore positivo. Anche in questo caso io avrò un Frequency Multiplier calcolato sulla frequenza sommata di il compito 1,2,3 meno 1 fratto il Frequency Multiplier solo dei compiti 1 e 2. Se ad esempio io nel compito 1 avevo un'azione al minuto, nel compito 2 mezza azione al minuto e il compito 3,0,2, io qui avrò il Frequency Multiplier per 1, qui per 1,5, qui per 1,5 e qui per 1,7. Naturalmente poi andrete a vedere sulle tabelle quando effettivamente cambia il Frequency Multiplier e così via. Quindi ogni volta c'è un parametro di rapporto che è dato dalla differenza tra i diversi Frequency Multiplier. cosa può succedere però? Se ad esempio la differenza tra un e l'altro è molto piccola, tale da non derivare un salto di riga nella tabella delle frequenze, questi due valori sono assolutamente identici, quindi qui ho zero. Avendo a zero l'apporto di quel compito alla sommatoia diventa nulla. Quindi se io ho una serie di compiti che vengono effettuati con una frequenza molto bassa o comunque molto distribuiti nel tempo, io rischio di avere questo effetto. Questo è un po' il limite che è stato considerato all'interno della ISO-TR per questo che è il metodo multicompito previsto da Tom Waters. Quindi STLI, questo qua è il Single Task Lifting Index, quindi questo è il livello Lifting Index, l'indice di sollevamento legato a quel compito 1, però come se fosse un compito singolo, quindi come se io avessi calcolato col metodo Narios normale, a cui si vanno a sommare questi fili. Come vi dicevo il limite della formula, ad esempio se il compito 5 avesse una frequenza di 0,2 o 0,5, quel compito non darebbe luogo a una componente, in quanto le frequenze non si sposterebbero di riga. Per farvi capire meglio, torniamo indietro alle tabelle della frequenza. vedete che ad esempio da 1 passo a 2. Se io in qualche modo a 1 sommassi, che ne so 0,2, rimarrebbe sempre 1. Vuol dire che avrei che in quel step non ci sarebbe una variazione di frequenza. A quel punto avrei il rischio di appunto avere annullata una determinata componente. Va anche detto che chiaramente le componenti che hanno una frequenza molto bassa avrebbero avuto comunque un frequency multiplier molto basso. Però se a questi fosse associato una ergonomia del compito molto negativa, avrebbe potuto determinare una perdita invece di un compito piuttosto gravoso. Per questo motivo sono stati inventati altri sistemi. Quindi la ISO-TR richiama sostanzialmente queste situazioni. Compito semplice, che è quello che abbiamo visto nel video precedente. Il compito composito, adatto generalmente fino a 10-12 subcompiti, per il quale si può usare il Composite Lift Index del NIOSH. Per un numero di compiti superiori è necessario utilizzare invece il compito variabile, che vedremo fra poco. Qualora io avessi delle attività che prevedono una attività per fasce orarie ben definite, quindi da una certa fascia oraria a un'altra si effettua una certa attività e dopo un'altra, potrei usare il compito sequenziale. Però devo avere dei compiti che durano più di 30 minuti e che comunque sono delimitati nel tempo. Se invece questi compiti sono frammisti, cioè nell'arco della giornata, vengono svolti più volte frammisti tra di loro, a quel punto devo tornare sui miei compiti compositi o variabili. Veniamo al compito variabile. Il compito variabile utilizza la stessa identica formula del Composite Lift Index. Tuttavia, per superare i limiti del metodo composito, sostanzialmente effettua una serie di semplificazioni attraverso una serie di aggregazioni e semplificazioni che nascono da considerazioni in base ai compiti, ai parametri che sono quelli ergonomici. Prima di tutto si passa ad aggregare i pesi. Questo serve per andare a ridurre il numero di compiti. Quindi invece che avere 20-30 tipologie di pesi, li raggruppo in 5 categorie per fasce. Quindi andando a analizzare il peso massimo e il peso minimo, vado a definire degli step e vado a calcolare quanti oggetti di quella fascia di peso ricadono in quella situazione. Dopodiché la posizione verticale che, come ricorderete, determinava una variazione del parametro moltiplicativo piuttosto ridotta, viene semplificata in due situazioni, o buona o cattiva, e a ognuna viene associato un parametro moltiplicatore. La stessa cosa per la distanza orizzontale, dove però qui l'indice, ricordate, ha un'incidenza molto maggiore, ma viene comunque semplificato in vicino, medio e lontano. Per la simmetria l'abbiamo presente o assente. La durata, si utilizzerà la durata prevista, quindi in qualche modo la durata dei compiti breve, e la frequenza la stessa cosa, quindi la frequenza e la durata non vengono toccati. Dislocazione e presa vengono invece considerati costanti, in quanto, come ricorderete, influiscono molto poco sull'indice. Quindi, i pesi, come vi dicevo, vengono aggregati in cinque categorie, in cinque fasce. La posizione verticale viene definita buona tra 50 e 125 cm da terra, altrimenti cattiva, quindi se inferiore i 50 superiore ai 125. La distanza orizzontale viene definita vicina se inferiore ai 40 cm, media tra i 41 e i 50 cm, lontano se invece l'oggetto è oltre i 50 cm. Per quanto riguarda la simmetria, se è presente, si metterà presente se superiore ai 45 gradi per almeno il 50% dei compiti, altrimenti viene messa assente. La dislocazione viene considerata pari a 1 il moltiplicatore, e 0,9 la presa, ovvero scarsa. Quindi ottengo cinque categorie di peso, due posizioni verticali, tre posizioni orizzontali. Alla fine ho 30 subcompiti massimo possibili. Potrei averne anche meno se ad esempio alcune posizioni verticali o orizzontali non fossero presenti. Se ad esempio avessi tutti gli oggetti in una sola posizione verticale, i compiti scenderebbero 15. Se ad esempio avessi solo due posizioni orizzontali e una posizione verticale, a quel punto scenderebbero addirittura 10. Quindi 30 subcompiti però risultano ancora troppo numerosi per poter essere applicato del composite lift index. A questo punto si è deciso di andare a individuare i valori, i compiti, come insiemi dei 6-6 stili. Quindi tra lo 0 e il 16,6%, tra il 16,6 e il 33,3%, tra il 33,3 e il 50%, tra il 50 e il 66,3%, tra il 63,3% e il 83,3%, tra il 83,3% e il 100%. Ognuna di questi percentili raccoglierà al suo interno una serie di questi 30 subcompiti e in sostanza verranno radunati come frequenza e durata e verranno assimilati. A fronte di questi avrò quindi il mio composite lift index calcolato in maniera del tutto simile a quella già prevista dal NIOSH. Infine abbiamo i compiti sequenziali dove quindi ho una serie di compiti che però vengono svolti per fasce diverse, quindi non frammisti tra di loro ma svolti per fasce orarie separate. In questo caso notiamo una similitudine con il composite lift index, nel senso che avremo il lift index del compito 1 più un determinato fattore, quindi avremo il valore intrinseco come se venisse fatto per l'intera giornata del compito 1 più qualcosa che quindi determina una sorta di aggiunta al rischio.